Occhiare ha sognato le carte, ma poi c'è invisibile occhio nudo e come ha fatto a vedere? Nella strada non c'è una sorgente oltre a coletta. Cos'hanno lenti che evidenziano gli ubi? Natalia, ho esaminato gli occhiari di Hansman e non hanno lenti che evidenziano gli ubi? Era l'unico giocatore con lo c'è? Sì, ma guarda la foto segnaletica via di Palace e guarda la foto della patente. Sì? Non ho noti niente agli occhi. Sono mai lenti. E nell'occaso unico. Sì, significa solo...